Devo dire che siamo in attesa innanzitutto degli sviluppi della legge proposta da Calderoli che ha una totale rivisitazione per quanto riguarda il ruolo delle comunità montane e vedremo a cascata che cosa potrà proporre di nuovo per quanto riguarda questa unione di comuni. Per cui attendiamo primariamente lo sviluppo della fusione della nostra comunità montana con la bassa e poi che cosa prevederà di nuovo questa legge. Di certo c'è la volontà di portare in futuro un interessamento unico nella riduzione dei costi e maggiormente dei benefici. La valorizzazione del territorio attraverso l'ecomuseo? L'ecomuseo è una cosa a cui abbiamo già con la mia lettera richiesto l'adesione per cui visto che il nostro territorio è completamente a vocazione turistica il buon Dio ci ha dato un territorio invidiabile, ricco di bellezze e da molti invidiati fanno parte sia del parco dell'Europa che anche di un protocollo d'intesa con la Val Sanguigno e il parco dell'Europa stesso. Oggi gli amministratori devono sempre di più essere bravi a battere alle porte giuste per portare a casa importanti fondi che sempre di più sono scarsi. Riguardo l'obiettivo 2 voi cosa state facendo? L'obiettivo 2 è un'opportunità che penso sia ormai agli sgoccioli visto che le risorse nazionali e quindi a cascata anche regionali vanno via via scemando cercheremo di agganciarsi all'obiettivo 2 attraverso un accordo che abbiamo raggiunto con i comuni di Val Bondione, Gandellino, Gromo. Siamo capofilla noi per quanto riguarda questo progetto un progetto che prevede 5-6 grossi interventi per un totale di circa 3 milioni di opere per cui 3 milioni di euro, se dovesse essere accettato porterà un milione e mezzo nelle casse dei quattro comuni a fondo perduto il resto è a tasso zero mutuo ventennale per quanto riguarda noi come capofilla avremo un beneficio che è attorno al 3% con questo intervento, se finanziato, porteremo sicuramente una miglioria per quanto riguarda la viabilità ciclopedonale meglio ancora pedonale che parte dal centro di Gromo fino alla centrale di Aviasco dove sarà posizionato un'area picnic e naturalmente un grosso parcheggio perché la gente che vorrà usufruire e fruire della Val Sanguigno che sarà parco protetto potrà andarvi tranquillamente ci sarà un secondo intervento all'altezza dei Bortolotti per chi va a sfruttare la pista dei Cinque Laghi i comuni di Montagna, si sa, hanno territori molto vasti ma nelle casse non ci sono mai abbastanza soldi non ci sono mai abbastanza fondi per avviare progetti come potete riuscire a governare, a sistemare, a riqualificare il vostro territorio? Beh, fortunatamente con la situazione economica che stiamo vivendo ci è data l'opportunità di usufruire del lavoro messo a disposizione di operai in mobilità per lavori socialmente utili e socialmente utili vuol dire attenzione al territorio, pulizia dei sentieri e quindi rendere vivibile e presentabile un territorio vasto come il nostro che merita attenzione e una persona come attualmente in organico non è sicuramente in grado di garantire certi servizi e benefici quindi siamo stati fortunati nell'aver avuto questa opportunità di godere di una persona in più che sicuramente renderà più efficace la nostra fruibilità del territorio grazie 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 grazie